Buongiorno e buon Linux Day a tutti. Per chi non lo sapesse, che cosa è il Linux Day? È una giornata internazionalmente dedicata non tanto al Linux in sé come sistema operativo paladino del software libero, quello che noi chiamiamo anche open source. In realtà è una giornata dedicata a livello internazionale, in questo caso localizzata in Italia, alla promozione, diffusione e divulgazione del software libero. Ecco, divulgazione mi sta particolarmente a cuore ed è il motivo per cui ho il piacere di poter parlare con voi, perché il software libero va raccontato, ma va raccontato facendo che cosa? Condividendo l'esperienza d'uso di tutti, perché il software libero è anche comunità. E soprattutto non è nulla per tecnici, per appassionati nati, il software libero è per tutti. Intanto mi presento, per buona educazione e riguardo nei vostri confronti, io sono Andrea Cartotto, sono un docente specializzato nell'ambito delle nuove tecnologie della sicurezza in rete, sono membro del registro internazionale dei formatori per la didattica innovativa, IET, e ho anche il privilegio, diciamo l'onore, di essere tra i pochi italiani membri di The Document Foundation, quella che possiamo considerare la casa del software libero probabilmente più noto ed utilizzato, che è LibreOffice. The Document Foundation è una organizzazione no profit internazionale che sovrintende allo sviluppo, alla conoscenza e proprio alla diffusione del software libero, con particolare riferimento a LibreOffice. Ecco, banalmente stiamo già parlando, a voi famiglie, ai ragazzi, ai colleghi docenti, di come il software libero possa e debba essere presente nelle nostre case e nei nostri dispositivi. Prendiamo un caso concreto. Sono attualmente davanti ad un notebook, quindi un computer portatile del mio istituto, io coordino l'attività didattica di un ente di formazione accreditato, e in questo caso un notebook con sistema operativo Windows, che però presenta al suo interno numerosissimi software open source, tra i tanti il browser Firefox, unitamente poi al noto browser Google Chrome, LibreOffice, Gimp o Gimp in funzione della sua pronuncia per il ritocco digitale delle immagini e molti altri. Questo proprio per lasciare immediatamente in voi la percezione assolutamente concreta che il software libero è perfettamente eterointegrabile. Lo usiamo dove vogliamo e per le necessità a noi più confacenti. Se vogliamo utilizzare anche un software, cioè un sistema operativo libero, ecco che abbiamo a disposizione innumerevoli distribuzioni di Linux. Ad esempio, oltre al gusto personale e all'usabilità, Linux Mint tutto sommato non differisce in maniera rilevantissima da Windows se noi volessimo accostarci al suo utilizzo. Il tema però in particolare sul quale andrò a ragionare con voi quest'oggi è il tema dell'uso sicuro non solo dei nostri programmi, ma dell'uso consapevole della rete internet. Perché come software libero significa scegliere un software perché ne ho bisogno e non per abitudine, non perché lo usano gli altri o perché si è sempre fatto così, l'uso consapevole della rete internet è fondamentale per essere cittadini digitali, cittadini di oggi, adulti consapevoli. Come può un genitore privo di consapevolezza digitale far ricadere questa consapevolezza sui ragazzi? Ne è corretto demandare tutta questa parte educativa solo alla scuola. Occorre che siano coinvolti tutti i soggetti, no? Questo è un patto, si chiama, di corresponsabilità tra noi docenti, i genitori, i ragazzi. Proprio per parlare di sicurezza in rete, mettendo insomma a frutto la mia esperienza che ormai è diciamo decennale e non solo, tempo fa ho avuto così l'idea, il piacere di mettere nero su bianco almeno dieci tra quelli che mi sembrano i principi fondanti di un uso consapevole della rete internet. Ed è nato così quello che potete osservare qui alle mie spalle digitali, il galateo di mister internet. Con mio grandissimo orgoglio è diventato un progetto nazionale di educazione civica digitale che dalla Liguria è diffuso in tutto il nostro paese. È possibile gratuitamente e liberamente scaricarlo anche in questo caso con licenza di diritto d'autore Creative Commons, quel bollino grigio che vedete in alto a destra, per lasciare intendere che io posso mettere a disposizione ad esempio un contenuto frutto del mio ingegno in rete internet, applicargli sopra un diritto d'autore, cioè dare al documento stesso un valore legale, decidendo però per il bene della comunità di non trarne lucro, ma facendo in modo che il documento dia in capo al suo autore, in questo caso io, diritti e doveri. Puntando il vostro mouse con un browser appunto sull'indirizzo che possiamo osservare anche in alto, http due punti slash slash bit.ly bit.ly slash galateo internet, abbiamo a disposizione versioni differenziate per fascia di età. Questa rossa che stiamo osservando è la versione per i ragazzi delle medie, secondaria di primo grado. Abbiamo poi la versione azzurra per i bambini della scuola primaria, scuola elementare. La versione verde per i giovani, ragazzi un pochino più grandi, diciamo in età da scuola superiore. E poi la versione arancione che è la versione per tutti. Il galateo di mister internet gode, come potete vedere, di differenti patrocini. Quello della fondazione Franchi, che è una fondazione che da statuto si occupa, oltre che del comparto legato alla sostenibilità ambientale, proprio dell'educazione all'uso delle nuove tecnologie, di Unicef, del club per l'UNESCO di Sanremo, che è il club maggiormente rappresentativo della Liguria e l'UNESCO non necessita di presentazioni, e l'organizzazione delle Nazioni Unite per Educazione e Cultura. E poi della più grande community in Italia, presente con sede a Milano, che raggruppa i genitori, proprio i genitori, sì, e si chiama genitori digitali. Il galateo su internet ha un nome. Noi non diciamo ai nostri figli di mangiare con il gomito ben piantato nel piatto, diciamo di rispettare loro il galateo. Il galateo viene anche chiamato etichetta, in francese diviene etichette. Uniamo l'etichetta alla parola internet, comprimiamola e otteniamo net, ed ecco che abbiamo la netiquette. Scorriamo un pochettino insieme i punti del galateo con un breve commento, e se notate, partiamo già da quella che può apparire una banalità, ma non lo è affatto. Non si iscrive in maiuscoli in rete se non serve. Sì, ma come mai? Perché il carattere maiuscolo equivale ad un urlo. Conseguentemente, tramite WhatsApp, tramite un qualsivoglia anche programma di videoscrittura più in generale, diffusamente in internet, rispettiamo le regole consuete di ortografia di buonsenso, di punteggiatura, e soprattutto utilizziamo la maiuscola quando veramente serve, altrimenti chi conosce la netiquette è legittimato a risponderci. Ma perché urli? Alla stessa maniera, molto importante, raccontiamo ai ragazzi e diciamo anche a noi adulti che le immagini su internet restano per sempre. Chi dice che sia concretamente possibile rimuovere completamente un contenuto da internet? Mente. È possibile tecnicamente mettere in atto dei comportamenti tali da cominciare a rimuovere contenuti indesiderati dalla rete. In questo senso esiste anche una cosa che si chiama diritto all'oblio, cioè la possibilità di interpellare addirittura Google motore di ricerca e dirgli questi contenuti che riguardano me sono lesivi del mio onore, della mia integrità. Si compila un modulo online che però è estremamente articolato e non di immediata comprensione e poi Google si prende la libertà di esaminarlo e andare a intervenire per la rimozione di quei contenuti. Ma chi ci dà la totale e assoluta certezza che un contenuto vada via da un server, cioè da un cervellone? Pensiamoci, soprattutto se i ragazzi a volte per scherzo e questo lo dico sovente ai miei allunni, possono avere anche solo l'intenzione, magari scherzosa, di scattare una foto ad un compagno per prenderlo in giro o di scrivere qualche cosa che non va. Questi contenuti restano in rete. Una fotografia anche eliminata dalla galleria del mio smartphone o tablet, se io ho dato il consenso all'inizio, la prima volta che ho preso in mano quel dispositivo, può essere già copiata e parcheggiata in sicurezza su un servizio cloud, cioè nuvola, e tra i più noti è il servizio ad esempio che ha l'icona a forma di girandola con i petali color arcobaleno, quello che noi chiamiamo Google Photo, ma potrei anche menzionare Dropbox, OneDrive e molti altri servizi che, facendoci la cortesia anche di non smarrire queste foto, le archiviano però su uno spazio a cui accediamo, è vero, con un indirizzo email ed una password, per cui di fatto è nostro, ma se facciamo un ragionamento un pochino più elevato, effettivamente noi abbiamo il controllo di ciò che è nostro, ma ciò che è affidato alla rete diviene di proprietà della rete. Questo ai ragazzi va detto, perché a volte si è distratti? Così come posso menzionare, e molti di voi che mi state ascoltando li conosceranno, giochi famosissimi come Crash of Clans, Clash Royale, Fortnite. Il gioco in sé, al di là delle valutazioni pedagogiche o genitoriali che chiunque di noi può legittimamente fare, il gioco in sé, vi dicevo, non è criminale, ma ciò a cui occorre necessariamente prestare attenzione è la chat presente all'interno del gioco. Perché la chat? Perché in chat un ragazzo assolutamente non deve scrivere e corrispondere con un giocatore sconosciuto che si nasconde dietro a uno pseudonimo, quello che noi chiamiamo un nickname, e soprattutto non debbo rispondere nemmeno se anonimamente io ricevessi degli insulti anche lievi. Dici ma come mai questo? Mi ha scritto Rocker 1, 2, 3 che sono stupido, insomma ho affeso qualche membro della mia famiglia. Occorre non rispondere perché il meccanismo di risposta innesca poi una conversazione e sovente il gioco è proprio questo. Quindi abituiamoci così come ci dobbiamo abituare a non scrivere mai indirizzi, numeri di telefono, dati cosiddetti sensibili. I ragazzi hanno una soglia della fiducia sovente che è più ampia della nostra e il trucco del possibile malintenzionato è proprio quello talvolta di abbassare la soglia della fiducia per poi avanzare le sue richieste. Queste tecniche sono tecniche che fanno parte di un più ampio cappello che è il cappello dell'ingegneria sociale. In parole povere sono i nostri comportamenti in rete ad influenzare proprio quello che farà la rete internet. Alla stessa maniera impariamo e raccontiamoci che il motore di ricerca più famoso al mondo non l'unico è Google. Google, attenzione, non lavora per pertinenza ma lavora per popolarità. Questo che cosa significa? Significa che Google non restituisce i risultati di ricerca basati sulle parole che noi abbiamo scritto nella sua riga di ricerca ma noi inseriamo una parola chiave o più parole chiave e Google restituisce quelli che sono i risultati a suo avviso più popolari. Ecco che dicendo più popolari scopriamo che può essere anche popolare dunque un risultato non pertinente, non corretto. Se si fa una ricerca per la scuola il consiglio prudentemente è sempre quello di controllare almeno tre risultati, incrociare le informazioni ottenute e a quel punto e solo a quel punto poi prendere quell'informazione per attendibile. Vi dicevo anche che Google non è l'unico motore di ricerca ed ecco, e lo riconoscete da questo simbolo a forma di papera, che ad esempio esiste un motore di ricerca che ha estremamente a cuore la privacy dell'utente, gli utenti siamo noi, e come in questo caso il mio browser Mozilla Firefox ha, perché io l'ho impostato e si fa con grande facilità, come predefinito il motore di ricerca DuckDuckGo. DuckDuckGo semplicemente funziona come Google. Ora io lo vado ad interpellare, anche se nel mio caso basterebbe effettuare una ricerca dalla barra degli indirizzi, e come vedete al posto del logo Google al centro della pagina noi abbiamo DuckDuckGo. Io vado a digitare ad esempio Imperia per avere informazioni circa la città di Imperia e come vedete l'annuncio sponsorizzato, cioè quello pubblicitario, è marchiato con ANN esattamente come accade con Google. Abbiamo poi risultati a scorrere, titolo, sottotitolo e descrittivo, e poi abbiamo la possibilità di andare ad indicare ad esempio il paese, cioè l'ambito della nostra ricerca, se avere una ricerca sicura, che come vedete in questo caso è impostata per standard su moderata, per cui alcuni contenuti inopportuni già di per sé non compaiono, oppure ancora io posso decidere di non filtrare assolutamente i contenuti per adulti perché sono un utilizzatore adulto e a questo punto poi sono io a dover fare il controllo in merito alle mie ricerche. A destra abbiamo il classico box di Wikipedia, anche in questo caso la nomino così perché se è una enciclopedia dove Wiki sta per rapido, veloce, ecco che il box informativo di Wikipedia in questo caso viene suggerito anche dal motore di ricerca DuckDuckGo ed abbiamo una descrizione sul comune di Imperia. Quindi banalmente di open source, di software libero e di tutela dei dati, possiamo comodamente parlare nell'uso quotidiano, io qui come vedete ho digitato nella barra degli indirizzi DuckDuckGo.com, peraltro DuckDuckGo è disponibile anche banalmente su tablet o su smartphone. Ancora vi mostro un altro risultato, cose estremamente semplici, semplici, a disposizione di tutti. Le immagini che io ricerco solo mediante Google Immagini sono immagini di proprietà di qualcuno. Google in questo senso ci mette in guardia con una banalissima dicitura che appare sotto il suo rigo di ricerca nella ricerca per immagini e lui dice le immagini potrebbero essere soggette a copyright. E se avessi bisogno di una immagine bella come sfondo per una mia ricerca, una immagine tematica o una immagine da usare anche per uso commerciale, per una festa della scuola, dove posso ricercare immagini veramente free, cioè libere, ma royalty free, cioè libere da una licenza d'uso da riconoscere all'autore. Uno dei siti più famosi a livello mondiale è questo, pixabay.com. Sono consueta riga di ricerca, come vedete se io scrivo banalmente estate, perché ci siamo lasciati alle spalle questa calda stagione. Ecco che ho una serie di immagini, attenzione, che hanno a che fare con la parola chiave estate, quindi vanno selezionate e naturalmente esaminate. Attenti perché essendo un sito di natura internazionale, estate, in inglese estate, ha a che fare poi con il settore immobiliare. La ricerca più esatta e più precisa, volendo farla in inglese, può essere ad esempio summer. E vedete come cambiano solo variando una parola chiave i risultati? Guardate questi splendidi fiori. Io clicco, ho poi la possibilità di cliccare su free download e scegliere la grandezza, dunque la risoluzione dell'immagine da me prescelta. Quindi ecco con due comportamenti semplici ma quotidiani, ci siamo raccontati da un punto di vista pratico che possiamo divenire utenti consapevoli. Tornando al punto 4 del mio galateo di mister internet, racconto proprio questo. Punto 5, prima di fotografare qualcuno, chiedere sempre il permesso e questo vale anche per i genitori. Anche i genitori debbono chiedere al proprio figlio, insomma se i nostri figli vogliono essere ritratti mentre mangiano un panino, mentre sono allo stadio con noi o in palestra. Noi non dobbiamo pubblicare su eventualmente un nostro profilo Facebook, una foto con loro, se non abbiamo loro chiesto il permesso e anche perché, ve lo voglio raccontare, Facebook, Messenger, Whatsapp e Instagram, le cosiddette quattro sorelle, fanno tutte capo all'azienda Facebook. E l'azienda Facebook disciplina in Italia, in particolar modo, un limite di età per accedere ai suoi servizi e il limite di età per registrarsi ad esempio a Facebook è di anni 16. Sotto i 16 anni un utente che utilizza Facebook non è legittimato a farlo. E ci tengo a ribadire questo concetto perché a volte, tecnicamente, io penso di poter eludere alcune regole. I ragazzi avrebbero già risposto che hanno variato la loro data di nascita e Facebook l'ha accolta. Vero, perché Facebook al momento almeno non chiede una controprova, però è pur vero che le regole noi le abbiamo a disposizione anche in rete e sta al nostro buonsenso e alla nostra prudenza applicarle. Se vogliamo un esempio estremo, ma sicuramente facile da comprendere, allora se io in rete penso di poter fare questo, penso anche di poter rubare una mela se non c'è nessuno intorno che mi veda e non c'è una telecamera. Ma il principio fondante è che non devo rubare, anche se sono completamente da solo. Ed ecco che scopriamo che nel digitale c'è come il concetto di legalità, c'è come il concetto di educazione civica, digitale. Trascuriamo per un momento al punto 6 le regole d'oro per scrivere una e-mail, queste sono più al momento per gli adulti, cioè il rispetto dei campi messi a disposizione, inserire assolutamente l'oggetto, il destinatario, il testo dell'e-mail scritto con buona ortografia e la firma, anche se la mail arriva certamente da un indirizzo mittente riconoscibile, ma la firma è un tratto distintivo che in più dichiara che io ho in qualche maniera sottoscritto quello che sto andando a scrivere. Inoltre i punti dai 7 al 10 ci raccontano che anche sui social media e in internet dobbiamo utilizzare la testa, togliamo ai ragazzi la parola virtuale, diciamo loro digitale, perché virtuale sembra un qualcosa di slegato dalla realtà. Digitale invece fa riferimento a uno strumento, ma uno strumento è reale. Internet è reale, solo che si muove su canali digitali. Per nostra cultura digitale ricordiamoci e ricordiamo che servizi o app come Ask o Disc Rush sono app o servizi internet poco fighi, cioè poco popolari vanno comunicati ai ragazzi in questi termini e laddove li vediamo non sentiamoci in colpa facciamoli sparire. Sono risultati, cioè siti internet o app, che tra virgolette dietro l'anonimato sembrano consentire ai ragazzi di parlarsi tra loro appunto con pseudonimo anche scrivendo frasi di cui nella vita reale si pentirebbero amaramente. Non consideriamoli. Inoltre, e qui vado ai punti 9 e 10 e nel mentre, segnalo che lo vedete in fondo, per curiosità, richieste o approfondimenti, mi potete appunto contattare sul mio indirizzo email personale, Gmail che vedete in fondo allo schermo, o mi trovate su LinkedIn, social network professionale o su altri account sociali o sul mio sito www.andreacartotto.education. Il tema della giornata di oggi, cioè il tema del software libero, e io l'ho esteso insomma, il tema di quest'anno a dir la verità sarebbe per esempio anche l'intelligenza artificiale, un tema affascinante, ma prima ancora di picchiare su questo ambito io desidero, e mi perdonerete, proprio rimarcare ancora una volta il concetto di educazione civica digitale. Noi dobbiamo averla all'interno, noi dobbiamo saper leggere, scrivere, fare di conto e avere competenza digitale, altrimenti rischiamo di essere analfabeti di ritorno o analfabeti funzionali. E in tal senso, e con questa massima mi congedo ringraziandovi molto per l'ascolto e per la vostra attenzione, ricordiamoci che internet, e io aggiungo il software, siamo noi, cioè siamo noi a scegliere cosa scaricare, cosa installare, cosa usare e per quale scopo. Conseguentemente nella rete, nell'uso sicuro del web, ma anche nell'uso sicuro dei software, software liberi intanto sono sovente software in continuo sviluppo e di qualità, senza dubbio alcuno, ma ricordiamoci che i protagonisti siamo noi, e siamo noi protagonisti laddove utilizziamo un software o la rete, non subendola, ma come parte attiva e come parte consapevole. Buon Linux Day a tutti, da Andrea Cartotto, e spero vivamente che questi fondamenti di educazione digitale possano rimanere in voi come un piccolo seme da coltivare lungo tutta la nostra vita digitale e da seminare nei nostri ragazzi, perché il futuro della rete è anche e soprattutto loro.